E continuiamo con le riviste, dopo il reportage andiamo agli asini e sul bimestrale di educazione e intervento sociale agli asini c'è una lunga intervista a uno dei registi cinematografici più schivi, ombrosi ma anche più talentuosi nel nostro paese, cioè Franco Maresco, il quale parla dei suoi inizi, del suo tirocinio, della sua amicizia con Daniele Cipri nonostante la separazione di qualche anno fa e del futuro che secondo lui non promette niente di buono. Comincia dal cinema, proprio dagli esordi. Per me, come credo per molti, scrive Franco Maresco, il cinema è stata una terapia. Banalmente potrei dire che il cinema ti aiuta a vivere, ti aiuta a farti delle illusioni, se hai una sensibilità di un certo tipo. Era una forma d'arte che arrivava a toccare le emozioni in maniera più immediata della letteratura e quindi rappresenta per me il primo vero amore. Sapevo che in qualche modo dovevo fare cinema, sentivo di volerlo fare. Ho capito subito che non avrei potuto fare il musicista, sapevo che la letteratura era una cosa molto difficile, che richiedeva un'applicazione e un dono, una disciplina che non mi erano molto congeniali. E quindi sentivo il teatro, ma soprattutto il cinema, come qualcosa che mi era vicino, anche perché nell'incertezza tra letteratura e musica il cinema dava la possibilità dell'ideale wagneriano dell'arte totale. E poi dice per me è stato importante anche aver fatto radio e poi soprattutto dal punto di vista culturale liberarsi dalla soggezione, dal timore reverenziale della cultura. Da ragazzo ero bloccato, ero bloccato dai paroloni, scrive Franco Maresco sugli asini, dall'esegetica, dagli studi. Per esempio, liberarsi dall'idea che è impossibile capire Gadda senza che continui te lo spieghi. Liberarsi da tutto questo. Per ascoltare Miles Davis, il jazz, il grande amore di Franco Maresco, al di là del cinema, non hai necessariamente bisogno di Lewis Potter. Anzi, il rischio è che se parti dall'analisi della poliritmia o di quello che succede alla quinta battuta, finisci per non ascoltare veramente. Poi dice, un tempo, a proposito di inizi, ma qui è ancora il Maresco protoregista, diciamo così, un tempo aveva un negozio di videocassette, che era tutto tranne un negozio. Oggi potremmo dire, parafrasando a qualcuno piace caldo, che era una copertura. In realtà lì dentro si parlava di tutto. Il cliente era quasi un fastidio. Era l'intervallo di un discorso tra noi, cioè tra me che ero il proprietario, il gestore di questo locale, di questo negozio, e tutte le persone che crearono una comunità intorno a questo videonoleggio. E poi appunto parla del suo sodalizio con Daniele Cipri. Non credo di avere veri e propri allievi, dice Franco Maresco, ma se devo stare al gioco potrei dire che sostanzialmente il mio primo allievo sia stato Daniele Cipri. Era più giovane di me di quasi cinque anni e per me diventò una specie di doppio. Parlando con lui, parlavo con me stesso. Si creava una sorta di circolo e ovviamente anche lui mi dava delle cose. Possedeva nozioni notevoli e, non so se lui un giorno lo riconoscerà, credo sinceramente di avergli fatto canalizzare quelle cose che lui aveva già dentro di sé. Che cos'è, in fondo, dice Franco Maresco agli asini, un maestro? Cos'è un maestro se non quello che, socraticamente, ti fa venire fuori quello che hai dentro? Io questo, in fondo, avrei voluto trovare. Forse l'ho trovato a volte, non lo so. Non è un maestro, uno che ti dice quello che devi fare, ma uno che ti apre la porta e ti indica la strada senza nemmeno fartene accorgere. Perché a me piace il jazz? Continua Maresco sugli asini. Quello che ho imparato ascoltando il jazz è che se arriva Duke Ellington o un Miles Davis, non ti dice come devi suonare, ma ti dà la possibilità di farlo. Perché intuisce che hai il tuo talento, ti mette nelle condizioni di poterlo mettere in atto. Allora io ho fatto con Daniele quello che Miles Davis ha fatto con Coltrane e così via. Allora sembrerebbe un po' arrogante perché vorrebbe dire darsi del Miles Davis in realtà è anche molto generoso perché vuol dire che dà del John Coltrane al suo ex sodale. Ho sempre delle persone con me che mi porto dietro da anni e dico che è importante creare, fare una comunità. E poi ancora dice, pensavo ingenuamente, parla adesso i film Franco Maresco, che alcuni dei lavori che ho fatto potessero funzionare per esempio nelle scuole, perché qui l'intervista è tutta quanta sull'educazione, sulla pedagogia, perché gli asini è una rivista che si occupa fondamentalmente di questo. Però non è successo per mille motivi, purtroppo. Belluscone passava per essere un film troppo politicizzato, Belluscone è davvero un film bellissimo, una storia siciliana è il sottotitolo. Mentre con gli uomini di questa città io non li conosco, che sarebbe un documentario su un altro grande siciliano del teatro questa volta, cioè Franco Scaldati, ero veramente convinto che potessimo ottenere dalle scuole una risposta. Questo non è successo, non è successo per niente, a parte le eccezioni, e ho trovato degli insegnanti che hanno dato delle risposte veramente desolanti, ecco insegnanti siciliani, perché veramente avete un regista come Franco Maresco a disposizione che vuole portare il suo film nelle scuole e non lo utilizzate. L'altro giorno, per esempio, al Cinema de Seta, continua con la sua testimonianza, raccontavo che alcune scuole dovevano venire a vedere il film su Scaldati e alla fine invece un insegnante mi ha detto di averci provato, ma che i suoi colleghi le hanno detto che non era il caso di proporre Scaldati ai ragazzi perché è troppo deprimente. Scaldati è un regista quasi becchettiano in salsa siciliana, insomma deprimente, ma fondamentalmente Scaldati è stato un autore importante. Ecco, quando ti trovi di fronte a queste situazioni, continua Maresco, è difficile trovare la parola speranza. La vedo nera, sono sempre più consapevole che sia la nostra una battaglia persa, tranne per quei 5 o 10 che possono dirti grazie per quello che hanno visto, ecco, chi vi parla è tra questi. Allora, vale la pena, conclude, per quei pochi, ma sarei più tentato di darti le risposte che dà Miles Davis quando gli chiedono perché fa musica e se pensa al futuro. E lui risponde, non me ne frega un cazzo, io stesso ti dico che non me ne frega niente perché vedo il futuro come un incubo, non soltanto personale, lo vedo come un incubo per l'umanità. Uno, insomma, fa le sue cose e poi se qualcuno riprende il bandolo, tanto meglio, ma io non sono ottimista. Però, grazie a Dio, continua Franco Maresco a fare film. Grazie. Grazie a tutti.